abbiamo il cartone pulito vediamo spero che da qua si veda vediamo pure col vento andiamo a vedere come è finita la questione qua vado ad aver visto due colpi infatti uno di qua e uno di qua vabbè quindi ragazzi osservate bene uno chi e un chi beh no? dai ottimo mi fa piacere e osservate anche quanto vento c'è che rompe le balle quindi immaginate voi non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo Grazie. Siamo pronti Siamo pronti One Siamo pronti